Le curve dorate e roventi della riccanza race si preparano per la discesa in pista del team Lambo capitanato da Alessia e Giorgia, disposte a tutto pur di vincere la gara. Tutto meno che rovinarsi la piega. Sembra un po' una suora. Team Corono, Sister Crash. Ora vi faremo vedere donne motori. Ragazzi, il casco, la piega, se ne va. Ti rovina le onde. Ti devi portare dietro pure il parrucchiere. Ti spruzza la racca mentre vai. Spruzza mentre vai, col casco te la spruzza. Io dico team, tu dici Lambo. Io dico team, tu dici Lambo. Noi con le curve ce la capiamo bene. Un autodromo vivente. Vai piano. Io la saluto così. Ok, poi pure. Gas. Marci più. Gas ancora. È brava, però dobbiamo caricarla di più la ragazza. Subito sinistra. Inizia a accelerare. Dritto. Gas. Secondo me poi non si concentra troppo sulla guida, vado veloce. Pensa sempre, devo essere fantastica anche adesso che sono su una Lamborghini. E dimentica qual è l'obiettivo. Vincere. Secondo me poteva dar di più. Io invece non sono una che guida in strada, ma quando scendo in pista ci vado più pesante. Allora aspetta, destro, freno, sinistro, acceleratore. Acceleratore. In mezzo il freno. C'è la patente. Destro, acceleratore. Sì. Recepire e fare. Destra vado. Sinistra. Io scendo. Vai. Mia sorella alla guida è un pericolo costante. Cioè diciamo che arriva al casello e riuscirebbe anche a prendere la sbarra. Tutto gas. Non fare niente. Fai fare la macchina. Vai. Wow. Io nella vita sono una veloce in tutto. Andale, andale. Subito sinistra. Perché là, gas, giù tutto. Tieni giù. La Georgia è stata una grande rivelazione. Adesso però rallenta per fuori. Purtroppo dobbiamo uscire. Era bello, era divertentoso. Brava. Ma ragazzi, bellissimo. Perché è bellissimo. Ma gas, gas, gas e parti, boom, verso l'infinito e oltre. E nessuno avrebbe investito un euro in Georgia. Ma a me non piace svelare le mie doti all'inizio, le tengo nascoste. Il team Lambo delle Sister Cash ha sfidato in pista il team Ferrari di Niccolò e Farid. Per i ragazzi è arrivato il momento di conoscere il risultato e scoprire chi sboccerà la vittoria e chi invece dovrà tornare a casa a piedi. Che ansia. Qua c'è il verdetto. C'è la somma dei nostri tempi e la nostra condotta. Suo cuore che batte forte. Tum, tum. Pronti? And the Oscars goes to... Georgia! No! Dai, dai, ma non è vero, non ci voglio credere. Fammi vedere, fammi vedere. Dai. Guarda! Ma chi è? L'hai scritta tu? No! Non posso aver perso. O hanno truccato la gara, oppure hanno veramente vinto perché Farid è scarso. Comunque, se abbiamo perso, non è stata colpa mia. Ma io sono schifato proprio. Qua avete truccato la cosa. Cioè, c'è qualcosa che non quadro. Noi prendiamo tutto, tutto. Siamo delle persone molto oneste, noi. Oneste e vincitrici sempre. Sempre. Noi vinciamo sempre. Perdiamo mai. Io bevo questo e mi ubriaco. Io berrò da questo, è l'unica cosa con l'acqua, con l'alcolica. Che devo fare? Vieni qua, Nick, bagnati la testa perché ci servirà. Ma poi è lente proprio, eh. Ciao ragazzi, ci vediamo a destinazione. Due vagabondi. Nick, quanto manca? Eh, non lo so. Guarda al lato positivo. Stai dimagrendo. Ma io non vedo l'alti positivi in cui sto morendo. Io ho già male da gamba. Ma appena torniamo a Milano, io la faremo pagare. Vendetta. Se ci arriviamo... Ma quanti moscerini ci sono? Ma quanti moscerini ci sono? Madagascola. Mari. Per... Grazie a tutti